La prossima relazione è misurazione e valutazione del processo educativo in un corso scientifico universitario. L'autrice e anche la relatrice è Beatrice Ruini dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Buongiorno, io vorrei dare una descrizione abbastanza sommaria di una proposta di come si può introdurre una misurazione e una valutazione di un processo educativo in un corso universitario che valuta ciò che lo studente ha acquisito dall'insegnante ma non solo, come anche l'allievo applica ciò che sa e crea, il suo processo di apprendimento. Do brevemente la definizione di misurazione e valutazione e definirò qual è il metodo didattico da me introdotto e utilizzerò delle prove strutturate e semistrutturate, le metterò a confronto e saranno svolte in contemporanea sullo stesso argomento scientifico e dallo stesso studente. La misurazione di una prova scritta è la rilevazione quantitativa più oggettiva possibile di vari livelli di apprendimento e consiste in attribuire un numero. Cos'è invece la valutazione, quella che io chiamo alternativa in ambito educativo? Esprime un giudizio qualitativo ed è ottenuto dall'osservazione del docente sullo studente in tutte le situazioni presenti nel corso svolto. Ad esempio si osserva l'impegno dello studente nell'applicarsi allo studio, come aderisce alle iniziative proposte dal docente, il processo di apprendimento, le capacità di applicazione a problemi concreti e anche altro. Quale proposta vi mostro? Allora, vi mostro in un contesto innanzitutto il corso di geometria di 6 CFU per il corso di laurea in fisica svolto al primo semestre del primo anno della triennale dell'Università di Modena e Reggio Emilia. La modalità didattica utilizzata è quella della blended course, cioè didattica mista, in parte svolta a distanza e in parte svolta in aula. La modalità pedagogica è quella della flipped classroom, quindi si ribalta il modello tradizionale di insegnamento al posto di avere la lezione frontale di teoria in aula e il ragazzo a casa che studia per esercitazione si capovolge, si assegna a casa dei video registrati dal docente e ai ragazzi si dà dei testi su cui si basano le slide e in aula invece si svolgono delle attività che io ho chiamato post video di tutorato che andrò a definire. Il metodo didattico utilizzato l'ho chiamato TT perché usa sia la tecnologia sia le tecniche tradizionali di insegnamento e il corso dura 12 settimane, le ho visualizzate in una linea da 1 a 12. Le prime 4 settimane vengono dedicate a un modulo introduttivo e mentre dalla quinta settimana in poi vi è un modulo base che dura 2 settimane, si ripete ciclicamente fino alla fine del corso. Nel modulo introduttivo tutte le settimane sono caratterizzate da 3 incontri di circa 2 ore l'una in tre giornate differenti. Ovviamente il primo incontro è quello fondamentale per spiegare la metodologia didattica e per dare il calendario di tutte le attività video che loro devono aver visto, i video, e studiato prima di ogni attività in aula. Il modulo introduttivo è caratterizzato dall'introduzione dell'attività post video e tutorato che andrò a definire e è caratterizzato anche nella seconda settimana dall'introduzione di un compito. Sottolineo questo compito esattamente dall'inizio del loro corso universitario, si calendarizza nella seconda settimana. Quindi è il loro primo compito scritto di matematica scientifico, di linguaggio scientifico che uno studente universitario incontra. Per questo io dedico un'attività particolare, cioè la correzione poi, molto precisa, la lezione successiva al compito dove evidenzio tutti gli errori più comuni o meno comuni che loro hanno commesso in questo compito ma in modo positivo, perché sia un modo per vedere come dall'errore si può arrivare alla giusta formulazione del concetto e della scritta simbolica matematica. Do una particolare enfasi a questa correzione perché ai ragazzi do l'opportunità alla fine della terza settimana di rifare questo compito sulle stesse argomentazioni ma essendo loro, diciamo, alla loro prima esperienza proprio a carattere universitario. Invece il modulo di base, che parte la quinta settimana in poi, si caratterizza dall'alternanza di attività post video e attività di tutorato ed ha alla fine della seconda settimana sempre un compito. Quindi ogni due settimane hanno un compito scritto questi ragazzi. Le attività post video, da che cosa è caratterizzata? I ragazzi devono fare uno studio autonomo a casa di studiare un video basando il successo dei fascicoli da cui sono estratte le slide dei video e quindi in aula i ragazzi, uno studente, si alternano, vengono chiamati alla lavagna e vengono affiancati dal docente e dal compagno ad approfondire, a recuperare gli argomenti fondamentali svolti nel video, approfondire gli argomenti del video e fare delle esercitazioni. Ovviamente questa attività avviene dalla prima settimana, quindi gli studenti devono essere completamente affiancati dal docente e dai compagni, sono tutti in collaborazione. Perché chiamare lo studente alla lavagna? Per rispettare i suoi tempi individuali di elaborazione del pensiero della scrittura, per permettere di formulare con i tempi propri il ragionamento e trattare la problematica facendo la propria e per imparare ad imparare insieme. Nell'attività post-video vi è un utilizzo degli errori, delle sviste, delle imprecisioni degli studenti come un'occasione per imparare dal perché una formulazione corretta e un'altra no, dal sperimentare come il mettersi in gioco, ovviamente anche sbagliando, permette più alti obiettivi di comprensione e di apprendimento. Quindi discutere insieme ai compagni e al docente le possibili soluzioni, non unica, siamo in matematica come argomento, quindi ci possono essere più soluzioni a uno stesso problema. L'attività di tutorato da cosa si caratterizza, come si differenzia rispetto all'attività post-video? La differenza è unica dal fatto che sono gli studenti a proporre l'argomento da svolgere in aula e non il docente, quindi sono i loro dubbi sulla teoria studiata a casa, sui esercizi, sulle loro curiosità e su ciò si lavora in aula. Quindi diventa un'occasione per comprendere le loro difficoltà, per affiancarli e incoraggiarli nello studio e questo permette al docente di riprogettare l'attività didattica in itinere calibrandola sulle difficoltà incontrate o sulle curiosità emerse dallo studente. Quindi, per quanto riguarda la valutazione, l'attività post-video di tutorato permette proprio di valutare in maniera alternativa lo studente, perché si osserva lo studente nell'attività di apprendimento, nell'impegno, nella motivazione e in particolare cosa si guarda, il saper o no esporre idee originali e critiche in rapporto a problemi assegnati, il modo di applicare le nozioni acquisite, il grado di conseguenzialità logica deduttiva di un ragionamento, il riuscire a trovare soluzioni a problemi, esercitazioni proposte, si vede il grado di interesse del manifestato, il modo di impostare, di procedere, di terminare il lavoro in tempi prefissati, si può guardare il grado di semplicità e la chiarezza espositiva nell'enunciare un problema e così via. Per quanto riguarda la misurazione, io utilizzo delle prove strutturate e le prove semistrutturate. Come ho detto prima, sono svolte in contemporanea sullo stesso argomento scientifico e dallo stesso studente. Sono sei, una ogni due settimane e sono caratterizzate nel modo seguente. Si svolgono in un'ora e i primi 15 minuti c'è una prova strutturata e il restante una prova semistrutturata. Come prova strutturata cosa si intende? 15 quesiti in 15 minuti a scelta multipla, quindi domande seguite da più possibilità di risposta, delle quali una sola è corretta. Il modo di fare queste verifiche è una delle verifiche più oggettive in genere. Alla fine, utilizziamo dei computer, quindi hanno immediatamente alla fine del compito la valutazione, però queste prove non sono adatte a verificare livelli alti e complessi di apprendimento. Perché? Faccio un confronto con le prove semistrutturate. Le prove semistrutturate sono una serie di quesiti che richiedono agli studenti di formulare autonomamente il testo delle risposte. Quindi, per esempio, se io chiedo di mostrare un teorema nella prova semistrutturata, mi danno, devono dare tutto il ragionamento logico e dedurre logico, scientifico, deduttivo, simbolico. Devono scrivere tutto. In una prova strutturata questo non avviene. Ci sono domande e le risposte sono chiuse. Si può chiedere quale proprietà hai utilizzato nella dimostrazione di questo teorema, ma non tutto il ragionamento del teorema. Quindi la prova semistrutturata verifica livelli più alti di competenza rispetto a quelle della prova strutturata. Io ho messo a confronto, per esempio, ho preso qui dei dati della prima prova scritta, tra prova strutturata, quello che qui ho chiamato prova online, e la prova invece scritta, che è la prova semistrutturata. Come si può leggere questa tabella? Prendiamo la prima riga. Allora, 13 studenti hanno fatto zero errori nella prima prova. Però solo sei di questi hanno fatto praticamente zero errori nella prova semistrutturata. 20 studenti, siamo nella seconda riga, hanno fatto un errore nella prova strutturata. Ma solo, se andiamo a vedere, tra questi studenti solo la metà, 6 più 5, hanno raggiunto più o meno lo stesso livello nella prova semistrutturata. Possiamo dire, in generale, che l'83,6% degli studenti ha fatto un numero nella prova strutturata inferiore a 3, ma solo la metà di questo ha raggiunto più o meno lo stesso livello nella prova semistrutturata. Quindi, verificando punteggi, diciamo, stemando livelli più alti di competenza, i punteggi sono minori della prova semistrutturata rispetto alla prova strutturata. Però portano a valutazioni alternative, che sono completamente assenti nella prova strutturata. Perché questi danno informazioni, come dicevo prima, riguardo al pensiero critico, logico, deduttivo, creativo, se hanno gli errori. E danno un feedback. Essendo compiti bisettimanali, danno un feedback e portano a riprogettare la didattica costantemente, nell'attività post-video, nell'attività di tutorato. E gli errori di concetto e di applicazioni possono essere ripreso sempre nell'attività di post-video, nell'attività di tutorato. E cosa si può dire, quindi, alla fine di questo metodo e di questa valutazione? Allora, gli studenti partecipanti al corso erano iscritti, erano 59, frequentanti erano 55. Tutti e 55 hanno scelto questa metodologia. Di questi 55, solo 44 hanno superato tutte le prove del corso. Quasi l'80% di loro ha sostenuto l'esame orale entro la prima sessione, cioè finita il corso. Il 45% di questi hanno ottenuto un punteggio, una valutazione molto alta. Sono andata a vedere cosa era successo a quegli 11 studenti che non avevano superato le prove del corso e sono andata a vedere se avevano superato altri esami. Praticamente esami significativi del corso di laurea in fisica, no, visto che alcuni avevano fatto forse la lingua. Concludo dicendo che questa metodologia didattica e questa misurazione e valutazione descritta si può ritenere efficace per un corso introduttivo a materie scientifiche, come ho fatto io essendo un corso del primo semestre, del primo anno di un corso di fisica, però per qualunque materia scientifica può andare bene. Perché introduce lo studente che esce dagli studi superiori a uno studio che può essere più autonomo con l'introduzione dei video, ma strutturato e costante da questo uso dei video e da queste prove scritte che ci sono ogni due settimane. Che diventa quindi questo studio autonomo, strutturato e costante proprio del mondo universitario. Grazie. Ci sono domande, osservazioni? Parola. Se lasciate libertà totale o avete comunque qualche modello o più modelli da introdurre? Allora, io i video li ho registrati, quelli che ho utilizzato io sono 20 circa, li ho registrati io utilizzando il centro e-learning di Modena, però me li sono strutturati da sola. Io ho utilizzato due computer perché scrivevo, utilizzavo due computer in cui avevo delle slide su cui scrivevo sopra e i ragazzi vedono sia a volte la faccia piccolina, però essenzialmente le slide su cui io scrivo quando parlo e spiego. E l'altra slide perché uso due tipi di computer in cui lasciavo tutto il teorema esplicitato, l'enunciato e poi lo andavo a dimostrare passo a passo in modo da avere il teorema di fianco. Faccio un esempio. Ok, grazie. Altre domande? Altre osservazioni? Va bene. Grazie. Grazie.